La mia impressione è che mentre ci sono gli elementi per essere più ottimisti sia troppo presto per anticipare la riaccelerazione del ciclo economico che, ripeto, è una storia secondo me più del 2024 che non del 2023. In questo framework quali sono i temi che secondo me continuano ad essere validi? La Cina continuerà a sorprendere al rialzo, di questo sia, come dire, ero convinto prima, sono ancora più convinto adesso. Questo porta con sé, secondo me, una sovra performance degli asset cinesi e in generale una sovra performance degli asset esposti al tema della riaccelerazione ciclica in Cina, materials, in parte anche l'energia sia tradizionale che alternativa. Secondo me i finanziari continuano ad essere supportati, se abbiamo ragione, cioè tassi di interesse più di tanto non scendono, siamo in un framework piuttosto positivo per i finanziari, ovviamente quello che soffrono i finanziari è la discesa dei tassi di interesse, se i tassi dovessero cominciare a scendere in modo precipitoso, questo sarebbe uno scenario più ostile per i finanziari. La mia impressione è che, come sai Luca, abbiamo avuto diverse fasi nel corso degli ultimi mesi, abbiamo avuto i tassi americani che sono arrivati al 4,5, lì la nostra idea era di accumulare assolutamente duration, adesso sono al 3,5, siamo un po' più cauti, penso che il movimento sia più laterale da qui, quindi non immagino grande downside di tasso e questo secondo me dovrebbe continuare a sostenere i finanziari. Sono scettico invece sul fatto che alcune di questa accelerazione ciclica che stiamo vedendo in questo momento a livello settoriale sia invece sostenibile già in questo momento. Ecco, guardando ai prossimi mesi, ai prossimi trimestri, però possiamo dire che la componente obbligazionaria, costruendo un portafoglio oggi, può tornare a svolgere quel ruolo di edging naturale in caso di aumento della volatilità? Possiamo almeno partire da questo, questo è un punto importante, tornare ad avere uno strumento che possa in qualche modo bilanciare il rischio dell'equity. Ora, questa domanda è molto importante, se noi guardiamo quello che sta succedendo, i tassi di interesse erano al 4,5, negli Stati Uniti sono andati al 3,5. Tuttavia, questo framework non è dissimile da quello che abbiamo visto nel 2022, cioè la correlazione azioni e obbligazioni è rimasta positiva. Ovviamente era positiva in senso negativo, scusate il gioco di parole, per gran parte del 2022, cioè scendevano assieme azioni e obbligazioni, è diventata positiva in senso positivo nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, nel senso che salgono assieme azioni e obbligazioni. Quindi non siamo usciti da questo framework in cui sostanzialmente sono le obbligazioni a guidare il comportamento dei mercati. Perché è così? Correlazione positiva, azioni e obbligazioni, riflette il focus dei mercati sostanzialmente su due temi, inflazione e policy. Ok? Quindi fino a quando il focus dei mercati è su inflazione e policy, che sono le due variabili, come dire, che sono andate abbastanza fuori dall'esperienza storica nel corso degli ultimi 12 mesi, quindi la correlazione e azioni e obbligazioni è destinata a rimanere piuttosto positiva. La mia impressione è che, anche se ovviamente la riapertura è molto rapida della Cina, è un pochino sporca questo quadro, però la mia impressione è che nel corso del 2023 dovremmo transitare da questa fase focalizzata su inflazione e policy, a una fase focalizzata più sulla crescita, no? Mano a mano che l'inflazione si normalizza e torna più vicino agli obiettivi delle banche centrali, anche se magari agli obiettivi non ci arriva, il focus dei mercati sarà sulla crescita. Se il focus dei mercati si muove da policy, inflazione a crescita, quello che ci possiamo aspettare è che la correlazione azioni e obbligazioni tenda a diventare più negativa. La conclusione di tutto ciò qual è? Secondo me siamo in una fase in cui faccio fatica a vedere tanto valore nel livello di tassi di interesse dove sono oggi, ma allo stesso tempo sono abbastanza convinto che il picco di tassi di interesse sia alle nostre spalle. Il secondo aspetto è che mano a mano che avanziamo nel 2023, il focus dei mercati dovrebbe shiftare da policy inflazione a crescita e questo dovrebbe portare con sé una maggiore capacità della componente obbligazionaria di offrire diversificazione nelle fasi di sell-off del rischio azionario. Non siamo ancora lì però. La curva invertita ormai da diverso tempo sulla parte americana è sempre anticipatore comunque di una recessione, lo è sempre stato. Ora tutti sono abbastanza convinti di questa recessione durante il 2023, se ne parla, se ne parla moltissimo, che sia veloce, che sia comunque magari non recessione che siamo abituati a vedere, anche perché partiamo da un livello di partenza diverso, ma potrebbe anche a un certo punto sorprendere e una recessione non arrivare oppure la curva dei rendimenti, il contesto che appena descritto comunque porta tutti a pensarlo. Sì, credo che una recessione, che secondo me in media d'anno è più vicina a una stagnazione, che è una recessione. Poi la definizione tecnica di recessione sono questi due trimestri di crescita negativa, che peraltro abbiamo già avuto anche l'anno scorso, per cui quello che abbiamo in mente, sì, probabilmente ci saranno due trimestri di crescita negativa, però in media d'anno secondo me quello che è più probabile è una stagnazione della crescita economica, cioè una crescita del PIL annuo che è solo leggermente superiore allo zero. Cosa può sorprendere in positivo? Ovviamente l'impatto del reopening in Cina è un impatto potenzialmente molto positivo, non tanto ovviamente sulla crescita economica americana, perché gli Stati Uniti tendono a essere piuttosto isolati rispetto al resto del mondo, ma può avere un impatto positivo sulla crescita economica globale. L'altro aspetto, l'economia potrebbe rivelarsi meno sensibile ai tassi di interesse di quanto noi non pensiamo. nel senso che l'esperienza dei cicli sostanzialmente degli ultimi 30 anni è un'esperienza dove la risalita dei tassi avveniva dopo una fase abbastanza lunga in cui il leverage nel sistema, quindi il debito soprattutto del settore privato, era salito. Quindi la dinamica era, c'è una fase di espansione, il debito sale, salgono i tassi di interesse, la salita dei tassi di interesse rende il debito meno sopportabile, le famiglie, le imprese devono fare del leverage e questo genera le recessioni che abbiamo visto. Sostanzialmente gli ultimi 30-40 anni più o meno erano tutte simili. Ora, post grande crisi finanziaria, quello che si è visto è che in realtà il debito non è salito tanto. Quindi la condizione tipica sotto la quale la salita dei tassi di interesse produceva un forte incentivo di del leverage nel settore privato non è presente. Quindi il rischio positivo è che l'economia non sia così sensibile ai tassi di interesse come magari modelli standard ti fanno credere, basato sul fatto che questa sensibilità ovviamente proviava anche delle caratteristiche molto specifiche, cioè i tassi salivano ma dopo che c'era stato un periodo di aumento del debito nel settore privato abbastanza sostenuto. Il debito in realtà qui è salito solo nel settore pubblico, un dibattito potrebbe essere che cosa significa questo, se c'è un rischio di del leverage del settore pubblico questo sarebbe il rischio più grande, per il momento non sembra essere un rischio particolarmente sentito dai mercati. Ultima domanda invece sulla parte Cina, anche qua un portafoglio full invested, se dobbiamo andare ad aumentare un pochettino la locazione a Cina, così come avevi detto sulla parte difensiva, da dove lo prendiamo sulla componenta azionaria, che cosa oggi, la parte sviluppata, la parte forse US e Europa? Da US, da obbligazioni governative, da obbligazioni cinesi, la mia impressione è che qui tutto si stia allineando per una fase sovra performance della Cina, la riapertura post covid, l'atteggiamento dei policy maker che adesso è molto incentrato sulla crescita, quindi questo pivot è un pivot autentico, credo che le tensioni con gli Stati Uniti sono entrate in una fase di coescenza prima delle presidenziali del 2024, quindi ricominceranno magari tra un anno, quindi secondo me c'è un intervallo di tempo in cui la Cina può sovra performare che i prossimi 12 mesi. Grazie. Grazie.